Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, cerchiamo editori esordienti, ah l'animo umano, la bontà dell'animo umano è sterminata, nell'universo patriarcal capitalistico non c'è limite alla bontà dell'animo umano, cerchiamo autori esordienti, cerchiamo autori esordienti, cerchiamo autori esordienti, io il mondo editoriale lo conosco come le mie tasche, perché nel 2003 ho fatto questo pamflet, vedete editori e scrittori ormai non lo trovate più, forse in qualche biblioteca comunale, ma pensate cari amici del web, che mentre le aziende non cercano più manodopera, c'è crisi di manodopera, invece l'azienda editoriale cerca, cerca, cerchiamo autori, cerchiamo autori, oggi è il primo marzo, primo marzo 2009, è domenica, primo marzo, e mi pare che siamo già in quaresima, meno male che questo messaggio in prima pagina, apparso sulla prima pagina del Corriere della Sera, di oggi domenica, primo marzo 2009, non è apparso per carnevale, perché mi pare che siamo in quaresima, perché se no diremmo carnevale, ogni scherzo vale, vedete che bello, premio letterario editoriale, l'autore, l'autore, dunque, dunque, ricordate Collodi, Collodi, il Pinocchio, c'era anche il paese di Acchiappa Citrulli, il gatto e la volpe, avevano detto a Pinocchio, Pinocchio, lì c'è il campo dei miracoli, e il campo dei miracoli si trovava in zona, paese Acchiappa Citrulli, Allora, eccolo qua, si cercano autori esordienti, esordienti, e quindi li cercano, capito, li cercano disperatamente, disperatamente vengono cercati gli autori esordienti, disperatamente, ma che bontà, ma che bontà, non ha limiti la bontà dell'animo umano, voi mandate il vostro dattiro scritto, lì dove è scritto, lì, lì, lo trovate, lo mandate, beh, il vostro dattiro scritto, in unica copia, perché per non farvi tribolare troppo, un'unica copia basta, e poi dopo, dopo un po' di tempo, anche se siete in centomila a mandare o duecentomila o trecentomila, perché lo sapete, no, che l'Italia, l'ha detto il povero Luce, a Roma, dove c'è quell'enorme palazzone che chiamano Groviera, Groviera, c'è scritto su in alto un popolo di poeti, scrittori, santi, navigatori, scienziati, e popolo di scrittori, e allora loro cercano, cercano, cercano autori, magari esordienti, magari esordienti, per pubblicarli, i libri, capito, per pubblicarli, e dopo un po' di tempo, dopo un po' di tempo, perché loro fanno presto a leggerli libri, i dattiro scritti fanno presto, dopo un paio di mesi vi arriva la fatifica letterina, bella la letterina, dove c'è scritto, caro autore, e quando uno legge caro autore gli si allarga il cuore, caro autore, abbiamo esaminato attentamente la sua opera, e l'abbiamo ritenuta degna di pubblicazione, prosegue, prima il dolce, poi c'è la mara, perché in cauda venenum, il veleno sta nella coda, però c'è, non lo dicono così, ma c'è da mettere mano al portafoglio, e molto delicatamente vi dicono che ci sono da acquistare, che so, quattro o cinquecento copie del vostro libro, del vostro dattiro scritto, quattro o cinquecento copie, ma voi c'è scritto, potete pure farlo comprare da un ente, dall'assessorato al comune della città dove abitate, o dalla banca dove avete depositati i vostri risparmi, un ente culturale, oppure li comprate direttamente voi, quattro o cinquecento copie, che in pratica corrispondono a cinque, sei mila euro, alla bontà dell'animo umano, non finisce mai, non finisce mai di meravigliarci quanto siamo buoni, quanto siamo buoni, quanto siamo buoni, guardate molti, molti mi scrivono, molti mi scrivono, mi dicono, Serafino Massoni dacci qualche consiglio per pubblicare i nostri libri, allora io rispondo a tutti, ed è la verità, che io per arrivare a case editrici, diciamo, decenti, decenti, come la casa editrice Hachette, ho fatto anticamera per venticinque anni, e dico, caro, tu sei disposto a fare anticamera per venticinque, venticinque, forse trent'anni, ma se proprio proprio volete pubblicare i vostri datti lo scritti, cari, ma avete il web, e voi dite, ma il web è il libro, sì cari, allora pubblicate pure il vostro libro, da quella casa editrice che vi ho mostrato prima, e preparatevi a tirar fuori 4 o 5 mila euro, perché tra l'altro di questi tempi è molto difficile che l'assessorato al comune dove voi avete la residenza vi dia 4 o 5 mila o 6 mila euro, è molto difficile, ma anche la banca fa fatica, sapete che sono in crisi anche le banche, preparateli, allora pubblicateli sul web i vostri dati lo scritti, a qualcuno ha anche detto guarda, vai nella tipografia sotto casa tua e fallo stampare a tue spese il tuo libro, spendi molto di meno e poi lo puoi anche vendere, lo porti da alcuni giornalai, c'è il prezzo base, il giornalaio, tienimelo qua, esposto, la metà giornalaio del ricavo te la prendi tu, la metà me la prendo io, perché cari, non la fate la trafila, non fatela la trafila, qua con queste case editrici a pagamento non avete bisogno di fare nessuna trafila, basta mettere mano al portafoglio, va bene? Sul web invece non mettete mano al portafoglio, c'è qualche esperimento di case editrice che pubblica non a pagamento, lo fa con tanta sofferenza e tanta buona volontà e la case editrice Gatto Grigio, Gatto Grigio la trovate sul web, io ho già avuto occasione di parlare della case editrice Gatto Grigio, fa tanta fatica pubblicare non a pagamento, tanta fatica, è un esperimento che mi pare sia più unico che raro in Italia, ecco cari, ecco cari com'è la situazione, però se volete sapere come vanno le cose in Italia, andate a vedervi il mio filmato intitolato Alain Elkan, Alain Elkan con la K, ho la vergogna, ho la vergogna e ho Alain Elkan e la vergogna, perché Alain Elkan è il papà di John Elkan e di Lapo Elkan, per lui le porte sono tutte aperte, perché gli Elkan hanno la Fiat, la Fiat ha le mani anche Nella Rizzoli, Nella Rizzoli fa parte della casa editrice Bompiani e Alain Elkan ha pubblicato mi pare in 15-20 anni, ha pubblicato una trentina, una trentina di romanzi mi pare per la casa editrice Bompiani, pensate un po', ho fatto il conto, mi pare che lui ha pubblicato due romanzi l'anno grosso modo, andate a verificare, Alain Elkan e la vergogna, Alain Elkan o la vergogna, cari se voi non siete nati da famiglia nobile, troverete tutte le porte chiuse, tutte le porte chiuse, a meno che non rispondiate a questi brillanti messaggi pubblicitari che appaiono sempre in prima pagina, Corriere della Sera e La Repubblica, Il Giornale, Acchiappa Citrulli, il paese di Acchiappa Citrulli non finisce mai, il campo dei miracoli, ma non certo per voi campo dei miracoli, pubblicate su web cari amici, credetemi, il consiglio ve lo dà uno, io Serafino Massoni che ha fatto anticamera per 20, 25, 30 anni e non credo che tanti abbiano la stessa pazienza che ho avuto io e poi di queste cose ho parlato in questo pamflet, editori e scrittori, va bene editori e scrittori, va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni